il colino è super siamo con Roberto Arpaia, GM della fungo di vetro sfermo lì prima di bloccarmi allora, grande vittoria grande serata, epocale per certi versi per il basket fornivese abbiamo vinto tutte le volte che c'era un pubblico così non riuscivamo nel nostro intento questa sera abbiamo vinto una grande battaglia una battaglia, non la guerra perché la guerra è lunga un applauso a questa squadra una grande fisicità fisicità l'allenatore è un maestro ha messo insieme un'orchestra che non fa una stecca tutti bravi, anche i ragazzi giovani tutti, tutti bravi mille, mille, due, mille, tre che vi seguono sempre quelli vi seguono comunque vada ce n'erano due mila in più stasera che cosa si sente di dire loro? l'allenatore è in grado che noi lavoriamo sempre aspettiamo degli amici nuovi se vogliono darci una mano siamo qua le porte sono sempre aperte ciao